Il vento della crisi economica soffia forte su tutta l'Europa. Il rischio è che un'intera generazione salti per sempre l'appuntamento con il proprio futuro, con il diritto al lavoro. Noi vogliamo mettere dentro al cuore dell'Europa il diritto al lavoro come diritto al futuro. Pensiamo che si possa produrre una nuova stagione dei lavori buoni a condizione di considerare l'ambiente la risorsa fondamentale per produrre ricchezza per tutti e per tutte. Quando arriva la crisi bisogna saper investire sulla scuola, sulla formazione, sull'educazione, sulla conoscenza come risorsa strategica anche per rendere l'economia compatibile con l'ambiente, capace di accogliere la dignità delle persone. Sinistra e libertà è un'altra idea dell'Europa, un'Europa multiculturale, multiraziale, un'Europa che metta al bando gli armamenti, un'Europa capace di fare della cooperazione il proprio orizzonte quotidiano. Noi vorremmo l'Europa delle energie alternative, l'Europa dei modelli di sviluppo dolci, l'Europa in cui ogni essere umano è un valore aggiunto. Noi vorremmo l'Europa della pace, sinistra e libertà per un'Europa amica delle persone, amica dei popoli, amica delle culture.